un uomo sta per essere privato del suo unico bene della sua stessa vita nella sua mente incredula e atterrita si consuma lenta inesorabile l'attesa scandita dal ritmo ossessivo martellante degli ultimi pensieri l'angoscia cresce di minuto in minuto e la coscienza della colpa si infrange di fronte allo scenità abominevole della folla che pretende urlante il suo spettacolo capitale e con questa sorta di lucidissima e appassionata per l'azione letteraria a favore dell'abolizione della pena di morte pubblicata nell'ultimo anno della monarchia dei borboni che victor hugo all'età di 27 anni prese posizione in difesa dei diritti inalienabili dell'uomo innanzitutto di quello alla vita